Senzoso e tardivo. Sono migliaia, qualche volta centinaia di migliaia le persone che mi seguono e seguono le parole che io dico. Molti sono i miei lettori, hanno approfondito la storia dell'arte leggendo i miei articoli, eppure ogni volta mi tocca anche a persone vicine come Sauro Moretti, Beppe Patitucci, dire guarda leggi il mio articolo sul giornale. Peccato che l'articolo sul giornale c'è tutte le domeniche, tutte le domeniche ormai da dieci anni sul giornale, il giornale, c'è una pagina, la pagina è questa, il quadro di Sgarbi e c'è un articolo di una pagina. Ora capisco che uno preferisse ascoltare battute o guardare video ormai piuttosto che leggere i giornali, ma anche soltanto nella segna stampa che si può trovare dentro un telefono abbonandosi, sarei felice che le persone che mi seguono sapessero o ricordassero meglio ricordassero che io tutte le domeniche, tutte le domeniche scrivo su il giornale e scrivo un articolo d'arte. E poi, e questo è il dato più stabile e anche più costante, per quello che ne so delle migliaia di persone che mi seguono, due leggono in maniera metodica e ordinata il giornale ogni domenica. Sono Venceslao Di Persio e Pietro Carriglio, che ringrazio perché non solo leggono ma mi telefonano per dirmi che hanno detto. Vorrei dire sempre quelli che mi seguono, le tante amiche, le tante ammiratrici, le persone che mi scrivono con affetto, che io scrivo anche tutte le settimane su Panorama. L'articolo esce il mercoledì, è un articolo d'arte, tra l'altro avendo ottenuto con il direttore della nuova serie di Panorama, non una pagina, una rubrica come è sempre stato nei settimanali, ma quattro pagine con fotografie a colori, argomenti molto vari, ma anche molto stimolanti, non mai capricciosi, con articoli molto precisi, con documentazioni fotografiche molto nitide. Quindi chi mi ama e chi mi legge, chi mi segue, dovrebbe sapere, senza che io dovrebbe ricordare ogni volta, prendi Panorama, che è il Panorama, ormai sono tre anni che su Panorama, su Panorama tutti i mercoledì esce il mio articolo. Poi uno si può dispergere anche in giornali difficili da trovare come il quotidiano del Sud, dove scrivo parimenti la domenica. Poi scrivo ogni due settimane, esce il sabato, quindi basta prendere il sabato il Corriere, con l'inserto io donna. Un tempo era il 7, poi ho litigato con quel direttore, come si chiamava, Severgnetti, Severgnucci, che poi è fallito con il giornale, è sparito, non so adesso se è una Stefanelli, mi pare brava direttrice, ma non ho più ripreso la collaborazione. In compenso l'ho trasferito sul giornale più letto, che è io donna. Io donna al sabato di due settimane. Per cui, dando pure queste dosi minime, sarei felice che non mi dovesse toccare ogni volta che qualcuno dice cosa hai usato, cosa hai scritto, perché sono uscite regolari. Sabato io donna, di due settimane, mercoledì Panorama, domenica il giornale. Ecco, ve lo dico perché se tanti che mi seguono fossero così sensibili, come dicono di essere, dal voler leggere, non so, perché non mi chiedo, la Tonia Bardellino, la Francesca Filauri, leggono veramente ogni domenica il giornale, ogni mercoledì Panorama, ogni due sabati, io donna, non so, poi non vi dico quante altre persone mi scrivono con infinito affetto, Rosalba, Rosalba è una giovane donna che mi scrive e quante non ne vedo che continuamente mi scrivono, Carolina Lantieri, come se trovassero per caso un articolo, dice c'è un tuo articolo, no l'ordine è un caso, è stabile, costante, è una consuetudine, è un appuntamento settimanale, Panorama mercoledì, giornale domenica, io donna sabato. Ecco, poi ci sono molti altri luoghi dove scrivo, ma può essere più episodico, quindi metterei questi tre come testi di lettura che si possono incrociare facilmente, poi ovviamente posso scrivere sul Corriere, posso scrivere su, anzi scrivo ogni mese su Bell'Italia, però insomma quelli sono facoltativi, ma il giornale la domenica, Panorama il mercoledì e io donna il sabato, le donne che tanto mi amano, che tanto mi seguono, gli amici che tanto mi amano, che mi vogliono leggere, Patitucci, Feruda, che ho ricordato ancora, ecco, sarebbe bene che se lo ricordassero, il giornale domenica, Panorama mercoledì, sabato io donna, ogni due settimane, vabbè ve l'ho detto, non è una puntata di sgarmi quotidiani particolarmente originale, ma è perché mi rompe il cazzo ogni volta dire, hai letto l'articolo, hai letto, ah sì, non vi dico Moretti, Moretti è disperante, Moretti è proprio la disperazione, Moretti segue tutto, fa i contratti, non legge neanche i giornali, per cui fa i contratti, perché una volta al mese scrivo anche sopra il resto del carlino, la nazione e il presidente ne scrive troppo, ecco, però mi pare bello per chiudere, mostrarvi il giorno, il quotidiano nazionale, in tre testate, il giorno, il resto del carlino e la nazione, non so quanti lo sapevano, ma ogni mese c'è un articolo molto importante che è la copertina del giornale, volta a volta, giorno o il resto del carlino, il giornale è questo, ma ha una coperta che è questa, in cui dentro, dentro, oltre alla coperta, le pagine interne c'è una visita ai musei di Ferrara, una visita ai musei di Firenze, una visita agli uffizi, una visita ecco qua, per cui se qualcuno una volta al mese avesse il desiderio di leggermi sul giorno, sul resto del carlino e sulla nazione, ecco, sappia che io faccio tre pagine che sono le pagine fondamentali del giornale. Molti saluti, auguri e non ditemi ogni volta, ah, dove è uscito l'articolo? Il giornale della domenica, il mercoledì panorama, il sabato io non. Auguri.